bella a tutti ragazzi sotto da birko e bentornati su gameplay channel e su 7 day to die the survival or the crafting game allora amici proseguiamo la nostra serie come sempre sull'alpha 15 vi ringrazio dei vari consigli che mi avete dato nel gameplay precedente perché mi avete detto tra l'altro uno dei consigli più preziosi che è una cosa che assolutamente non sapevo è che con la vrench non so se una cosa è stata inserita adesso si poteva fare anche prima sinceramente non l'avevo mai provata con la vrench questa qua la chiave inglese si possono praticamente smontare i divani quelli in pelle e ottenere quindi della pelle di questa qua praticamente ve la faccio vedere eccola qua la pelle quella già conciata già trattata perché mi serviva tantissimo la pelle perché per fare la stramaledetta forgia vi ricordate ci serviva il bellovs che è quella specie di soffione insomma che si usa anche per pericamini dovrebbe essere e praticamente per fare il bellovs si può fare in due modi con la pelle normale quindi quella non trattata oppure anche con la pelle quella conciata e grazie al consiglio che mi avete dato tadan ecco qua che sono riuscito a farmi subito la forgia perché appunto ho trovato un po di abitazioni qua in giro vi faccio vedere anche un po sulla mappa vedete sono andato in giro un po a esplorare e qua sotto ecco qua c'erano alcune case con diversi divani anche qua quindi li ho smontati tutti ho trovato un po di pelle poi non mi bastava in realtà la pelle conciata che avevo quindi siccome avevo vi ricordate ho ucciso un po di animali in giro avevo della pelle normale ho praticamente sbloccato la skill che ve la faccio anche vedere eccola qua questa qua così lo sapete anche voi che vi permette dalla pelle normale di tirarne fuori la pelle quella trattata diciamo fatto questo ho sbloccato anche la skill che adesso non mi ricordo però più dove cavolo è aspettate che vediamo se la ritrovo construction tool allora dovete ecco prima portare a livello 40 questa construction tool questa skill qua una volta fatto questo potete fare la skill lo steel smiting eccolo qua che praticamente vi consente di fare i lingotti in forged iron che poi ci serviranno per fare tutti gli strumenti guardate che mi metto un po più lontano ok ci permette di fare tutti gli strumenti in metallo io infatti ho messo a fare quindi del ferro e della clay che quella terra che trovate sulla mappa questo marrone qua chiaro queste chiazze qua sono tutte chiazze di clay praticamente la raccogliete con la pala io ho fatto la pala questa qua in pietra vi faccio vedere anche questa dov'è che l'avevo messa mi ricordo che l'avevo buttata qua da qualche parte o ce l'ho nell'inventario no nell'inventario non ce l'ho ah eccola qua la stone shovel vi permette la pala praticamente la raccogliete più velocemente la potete craftare da subito senza grossi problemi ecco qua vi serve solo un po di pietra un po di fibra un po di legno per farvi la pala diciamo rudimentale adesso quindi abbiamo forgiato un bel po di lingotti altri purtroppo mi sa che non credo di poterne fare iron no questo mi da dell'iron normale il forged iron vediamo se posso fare ancora ma non credo no no perché mi manca la clay ok quindi la clay la dovrei andare a prendere ma poi quella eventualmente vado anche off camera a prenderla ok quindi a questo punto spegniamo un attimo la nostra forgia così almeno non abbiamo spreco di legna e direi a questo punto io sono anche andato a vedere come vedete in alto a destra è sparita la missione del venditore perché già che ero in giro mi trovavo in zona sinceramente sono passato quindi dal venditore e adesso ci vado insieme a voi così vi faccio vedere di che cosa si tratta nel frattempo però visto che abbiamo già un po di cose abbiamo un po di lingotti volevo vedere se riuscivo a farmi a farmi a farmi no però che pirla le devo fare di qua mi sembra sempre una forgia le devo fare gli strumenti quelli rinforzati a poi adesso vi faccio vedere anche la casa è perché avete visto rinforzato parecchio tutta la casa allora che questi sono tutti gli strumenti vediamo se li trovo no aspettate ma io la stone x ad esempio la x normale a ok eccola qua allora direi di farmi sicuramente un accetta normale ho trovato in giro un piccone tra l'altro già di livello piuttosto alto in steel peraltro neanche in iron quindi teniamo questo e mi servono altri forgi d'iron si devo fare assolutamente altri forgi d'iron perché se no non riesco a farli e tra l'altro vedo che per alcune cose adesso hanno messo questo dovrebbe essere il simbolino della workbench mentre prima tutto il crafting si poteva fare anche senza il tavolo da lavoro era una cosa più che altro che viene utilizzata tanto nel multiplayer per non avere qua la coda del craft in piena adesso vedo che invece queste qua hanno sul simbolino del tavolo da lavoro quindi credo che abbiano messo d'obbligo appunto il fatto di craftarci anche la workbench per poter craftare le cose diciamo in in acciaio dovrebbero essere quindi va beh anche questa cosa in più non è non è male dunque la casa che cosa ho fatto allora vi faccio vedere giusto al volo intanto interno ho risistemato tutto il piano di sopra che vi ricordate non era neanche agibile quindi ho risistemato tutto il piano di sopra ho fatto questa balconata che praticamente gira tutto intorno alla casa o anche recintato tutto con un bel muraglione per per il momento purtroppo solo in legno del resto vabbè ancora la pietra non riuscivo a prenderne così tanta perché non avevo ancora il piccone e poi di fuori praticamente ho messo i wood log questo perché non ho usato vedete ho fatto una fila devo finire perché mi c'è voluto un fracco di legno sinceramente vedete li ho messi tutto intorno fino a qua mi manca da finire vedete da qua ci manca insomma devo finire tutto questo pezzo qua e tutto questo lato non ho fatto i soliti spike wood perché un'altra cosa che hanno cambiato è che i wood log vi chiedono 20 di legno e quindi un qualcosa abbastanza fattibile invece gli spike wood spike ce ne chiedono 100 adesso cioè dall'alfa 15 per fare gli spike wood vi chiede veramente un fottio di legno io questo non so se è stato dato dal fatto che hanno aumentato molto diciamo la potenza degli spike wood perché sinceramente l'alfa 14 gli spike wood sappiamo perché l'abbiamo visto che facevano pochissimo danno non servivano quasi a niente infatti nella vecchia base avevo fatto una roba tipo fino a qua cioè da qua all'astra piena di spike wood e mi uccideva giusto gli zombie quelli proprio più più deboli in assoluto del gioco spero immagino ma voglio anche ben sperare che i programmatori per fare un incremento così alto delle risorse che servono per fare gli spike wood ne abbiano anche aumentato un casino il danno perché sinceramente prima facevano molto più danno questi i wood log che non gli spike anche perché questi li possiamo anche migliorare anche col metallo io adesso non ho metallo però comunque li possiamo migliorare anche con il legno e poi col metallo quindi diventano molto più efficaci rispetto agli spike wood comunque se qualcuno di voi magari ha provato gli spike wood in gioco magari me lo faccia sapere così ci togliamo questo dubbio io ancora sinceramente non li ho provati ah ecco no un'altra cosa prima di andare un'altra cosa che volevo fare dal grasso animale che abbiamo recuperato che ho recuperato peraltro da un altro cervo mi sembra che era qua nelle vicinanze ho fatto qua nel fuoco intanto ho trovato anche il cooking grill che anche questo ci serve per fare appunto la carne e ho fatto col grasso animale il tallov che il tallov in questo caso avevo fatto ancora anche un po d'acqua ok il tallo adesso ci serve per fare le torce perché in questa nuova alfa le torce non le possiamo più fare con il carbone ma ci serve il tallov e ci serve anche tra l'altro vedo il clot allora recuperiamo il clot che forse qualcosina qua dovrei avere di clot spero ah sì ce l'ho ce l'ho perfetto ok per cui ci facciamo anche cinque torce vai così una me la tengo a parte col cappellino con la pila quindi non è che mi serve a molto perché volevo metterle anche un po almeno qualcuna di fuori giusto per avere un po di visibilità maggiore quindi io una la piazzerei la ok poi metterei magari una la ok così illuminiamo un po tutta la zona ragazzi lì così dovrebbe averne ancora qualcuna che sta facendo sì ne ho ancora due ok quindi magari le metto dietro dovrebbe metterle dietro effettivamente si vedete il cappellino con la torcia per cui non ho assolutamente problemi ah eccole qua non ne ho ancora qualcuno in più in quindi posso mettere magari una qua una la mettiamo qua così in modo che almeno se andiamo diciamo sul balcone sopra almeno riusciamo a vedere qualcosina è una magari la metto qua al centro vai non ho più vero no ok mi serviranno poi comunque anche altre torce per insomma fare un po più di luce anche all'esterno questo ovviamente è una prima base non sarà quella definitiva è giusto una cosa che ci permette quantomeno di affrontare le prime orde perché come sapete già adesso dal settimo giorno arriverà anche la prima orda di zombie vedremo un po cosa dovremmo affrontare ok allora qua questi si li lasciarei qua tanto barattoli vuoti poi li recupero ok allora teniamo l'accetta magari la branch me la porto perché così se trovo degli altri divani ne approfitto per prendere ancora un po di pelle e direi che a questo punto ragazzi possiamo metterci in viaggio e vi faccio vedere appunto il venditore che era qua sotto dovrebbe essere questo esatto ok quindi ragazzi mi metto in viaggio e ci rivediamo fra pochissimo allora ragazzi stiamo andando ormai siamo vicini al venditore eccoli vedete la bandiera che svolazza in questo caso è nel bioma quello bruciato ed ecco qua praticamente questo mega negozio vedete bellissimo ah è chiuso che cavolo è successo che oddio mi ha mi ha teletrasportato qua ma che cavolo ah cioè allora non posso entrarci di notte a porca miseria e sì come mi avvicino mi ributta lì eh sì no ok allora di sera di notte praticamente chiuso ah che cavolo vabbè sfortuna sfortuna ce n'è eh no vedete sennò come mi avvicino mi mi ributta fuori ok sì anche perché secondo un posto parecchio fortificato infatti quando l'ho visto la prima volta che l'ho scoperto eh mi era venuto in mente ho detto chissà se magari qua ci si può costruire praticamente la base evidentemente no perché ovviamente essendo già una cosa fortificata anche gli zombie c'è uno può essere distrutto né da noi né dagli zombie eh comunque al suo interno niente c'è una roulotte con un un npc sostanzialmente che vende appunto ehm un sacco di oggetti che si ehm cambiano ogni ora penso che venda praticamente tutti gli oggetti del gioco ma alternandoli ogni ora quindi non li vende tutti insieme per cui ehm non sarebbe neanche male comunque tenere ehm la base che ho fatto io adesso quindi appunto questa qua io ho la base qua proprio per il fatto che siamo comunque relativamente vicini al venditore cioè non ci metto tantissimo tempo ad arrivare anche a piedi eh e quindi insomma non sarebbe non sarebbe assolutamente male adesso ci ho messo un po' di più perché mi sono fermato vedete mi sono fatto una palla già che ho trovato della clay in giro e mi sono raccolto un bel po' ehm un bel po' di clay tra l'altro ho trovato anche un maialozzo che era bagato così sono riuscito anche a seccarlo e ho vabbè la carne l'ho buttata perché se no mi sentivano gli zombie eh comunque ho recuperato un po' di pelle e anche un po' di eh grasso animale che sempre ci serve appunto per fare il tallo e fare così altre eh altre torce dato che ormai comunque sono qua nel bioma a sto punto sono le 11 e mezza quindi purtroppo fino alla mattina non riesco a farvi vedere l'interno eh del venditore io comunque in ogni caso faccio un giro a sto punto qua intorno eh mi guardo anche un po' che cosa c'è perché magari trovo qualcosa di di interessante visto che comunque questa zona non l'ho esplorata come potete vedere mi sono fermato qua al al venditore basta sicuramente può valer la pena fare un giro qua e vedere un po' se riusciamo magari a trovare qua non me lo fa selezionare no se riesco a trovare magari qualcosa di utile eh anche perché no qualche altra struttura allora qua ci sono un po' di nidi questi magari ce li prendiamo che ho un bel po' di più ma mi manca un sacco di roccia però comunque ho il piccone quello in metallo per cui non è un gran problema recuperarla ah però ecco qua c'è un altro edificio anche questo mezzo di roccato con un bello zombie ma va bene non è un grosso problema anzi ce n'è più di uno perché ne vedo in lontananza che stanno arrivando va bene così facciamo un po' di combattimento anche in questo gameplay almeno miglioriamo anche un po' le varie skill seccata al primo colpo eh mamma mia che cattiveria ok perfetto sento qualcuno anche più vicino ok qua il solito zombie in fiamme ola headshot paura perfetto ok anche quella è andata giù sei morta sì direi di sì allora questo cos'ha un po' di colla vabbè per adesso me la prendo poi al massimo se non mi serve la butto via tu cosa avevi? dell'acqua ottimo ancora tanto ci serve sempre questa non aveva nulla questi niente sento camminare chi cavolo è? ah eccolo là ulla preso preso pieno pieno tacchete ok prendiamo questo niente questo scrap plastic ce la prendiamo assolutamente qua c'è un'altra salve risalve ok scoppiata così vabbè chiodi prendo i chiodi magari a qualcosa ci servono qua dell'altra acqua ottimo e qua basta perfetto non dovrebbero essercene più di zombie qua c'è anche un sacco di carbone quello lì è tutto carbone peccato che adesso appunto per fare le torce non ci basta più il carbone cioè anzi non possiamo proprio più farle col carbone ma possiamo farle solo e esclusivamente col tallo ed è un po' un peccato questa cosa perché col carbone se ne trovava tanto soprattutto in questo bioma anche spaccando i ceppi quelli lì potevamo tranquillamente trovarci del carbone ma queste le scrapo oh allora una poltrona questa però non credo sia in pelle io in ogni caso faccio così vediamo cosa ah ne tiro fuori del clotto infatti del tessuto però vedete che la cosa bella è che qualsiasi cosa praticamente la possiamo smontare con la vrench e quindi andarci a prendere i materiali di cui è fatta e questa è sicuramente una cosa estremamente comoda vediamo se anche il letto lo posso smontare sì ci tiro fuori anche del ferro degli iron pipe e delle molle ottimo ah benissimo così ok vediamo qua cosa c'è di interessante niente qua c'è un po' di ferro che ovviamente me lo prendo ho il cotone posso anche buttarlo via che non mi serve anche sta roba qua via ok vediamo qua no abbiamo un barattolino da uscire lì chi è? ok uno zombie là uno zombie qua ok lo facciamo così andiamo un attimo fuori dove sei? beh che liscio ok stavolta preso sei andato? sì allora vabbè l'elmetto non mi serve perché ce l'avevo già poi adesso uso questo con la luce c'è un altro zombie qua che gira eccola qua un infermierina tu puoi avere delle cose utili sinceramente ce n'è un altro qua che arriva cacchio mo stanno arrivando un po' tutti eh abbiamo anche un caldo assurdo ok poi un altro qua sentivo infatti dei passi mamma mia che liscio ok perfetto tu non c'è niente tu questo si ce lo scrappiamo vai scrappalo ok l'infermierina dov'è? qua dell'alcol ah vabbè anche questo anche se ce l'ho già me lo tengo il bollitore diciamo quello per il campfire mi può comunque sempre tornare utile ok allora riprendiamo da dove ce l'avamo fermati qua nell'esplorazione dunque qua uh del cibo assolutamente sì ho già l'inventario pieno peraltro e qua c'è niente ok allora qua abbiamo preso tutto vediamo qua barattolo vuoto non mi interessa niente e qua niente ok uh si può anche andare sopra vediamo cosa c'è sopra di interessante ma c'è un nido vabbè l'uovo me lo prendo ok qua cosa c'è qua non c'è nulla oh ci sono anche dei libri ottimo ottimo del duct tape mi può servire in realtà eh cosa butto via cosa butto via bella domanda davvero una bella domanda allora intanto c'ho una sete boia quindi vediamo un po' di bere eh senti mangiati questo dai così almeno poi mi libero un po' di posto questo lo scrappiamo e ci prendiamo il duct tape ok vai vediamo qua eh la cesta armor ok lo schematico ovviamente perfetto sappiamo fare anche questo vediamo qua cosa c'è piume uova ovviamente ce le prendiamo ok ok allora qua non dovrebbe esserci più niente va bene torniamo giù perfetto qua ah c'è anche un sotto che cavolo è sto casino è stato un gran casino va bene ma qua non c'è niente andiamo qua ah intanto potrei anche fare questa roba qua ok così almeno con l'accetta però qua c'è del metallo quindi facciamo così ok dammi il piccone perfetto tiriamo giù sta porta ragazzi adesso è tutto legno ottimo vabbè con questa facciamo decisamente prima a tirare giù le porte e credo che ci sia esatto infatti sto dicendo credo che ci sia una cassaforte e infatti c'è assolutamente allora questo intanto lo scrappiamo ok questo niente questo ovviamente chiusa ma io vado giù di piccone vediamo quanto ci mettiamo si dai non ci metto molto quindi assolutamente non andiamo a spaccare ok ragazzi vabbè dai vi taglio e ci rivediamo fra pochissimo ok ragazzi ok ragazzi allora gli ultimi colpi pacchete voilà vediamo cosa c'è c'è un bel hunting rifle che assolutamente mi prendono le ossa via perché tanto le ho già quindi non mi interessano questo in realtà anche ce l'ho già per cui vabbè si chi se frega tanto questo lo trovo spesso queste qua sono parti però con poco poco valore quindi sinceramente non le prendo potrei prenderle per poi venderle questo si a parte che potrei tirarmi via questa che tanto adesso me la posso fare anche meglio prendo dai le prendo così poi al massimo le vendiamo si allora quindi per il momento lasciamo giù la pietra e prendiamoci queste ok si direi che potrebbe anche andare bene così a parte che io potrei anche lasciare giù la colla che per il momento non mi interessa mi tengo la la mazza che può essere più utile secondo me anche qua lasciamo giù i chiodi prendiamoci questo che sa che è decisamente meglio tanto i chiodi adesso con la forgia li posso fare anch'io quindi non mi interessano assolutamente ok ah ecco volevo vedere smontando invece questo che cosa ci dava come del metallo ok dell'iron pipe anche questo a metallo iron pipe sostanzialmente ok si solo quello ah no ci da l'elettrica a parte l'elettrono i componenti allora questo ci potrebbero essere estremamente utili buttiamo via l'alcol che non mi serve questo mi serve invece per l'infezione quindi lo tengo assolutamente tiriamo via l'accetta questa qua che sinceramente chi se ne frega ok e prendiamoci queste perfetto anche le mechanic park part si park part anche queste potrebbero esserci utili cosa butto cosa butto bella domanda ah beh buttiamo via questa che tanto non mi serve vai perfetto ok così abbiamo sia le parti elettriche queste qua che quelle meccaniche cosa ci possiamo costruire il cessi tutta sta fatica ah no il workbench ok per fare il workbench quindi adesso mi serve che poi magari faremo insieme nelle prossime puntate il forge d'iron che possiamo fare le mechanical part che però me ne servono un botto perché me ne servono 20 una branch e vabbè quella la recuperiamo un martello che l'ho trovato tra l'altro è vero non so se l'avete visto ce l'avevo l'ho messo nella cassa perché l'avevo trovato in un airdrop che era sceso avevo trovato il martello e poi del legno che però vabbè quello non è un problema recuperare il problema sono le mechanical parts che però dovremmo poter tirar giù dai condizionatori e insomma senza senza grossi problemi non so se poi le ricaviamo anche dalle macchine o meno io una macchina l'avevo smontata ma non mi pare mi abbia dato mechanical parts almeno non mi pare proprio dunque io volevo fare un'ultima cosa a questo punto che farei prima di salutarci un bel cervo tiè tiè madonna con la range eh no ma il cervo è troppo veloce ok ho dato due randellate con la range povero cervo volevo fare una cosa dato che adesso in realtà avendolo scoperto avendo completato diciamo la quest del tutorial di essere arrivati qua volevo segnare un white point sul venditore così almeno ci rimane sempre in mappa cosa c'hai tu uh questi mi servono e che cavolo trovo un sacco di roba tutta roba che mi serve giustamente eh cosa mollo giù cosa mollo giù e non posso muovere giù niente allora fatemi pensare eh lo short iron pipe però anche quello mi serve eh niente dai lasciamo giù sta roba senti asciangiu sta mazza e me la farò io dai tanto anche quella me la posso fare ok quindi andiamo un attimo qua adesso sono le due per cui in realtà mancano ancora due ore prima del giorno però io in ogni caso qua vado a fare save way point eh andiamo a mettere questo e mettiamo v no come l'ho scritto venditore perfetto ok vai così almeno siamo tranquilli che il punto ci rimane sempre in mappa almeno non ce lo perdiamo io comunque ragazzi resto qua al massimo nel prossimo gameplay appunto aspetterò direttamente la mattina in modo da farvi vedere appunto l'interno di tutta la struttura perché mi vale la pena così vediamo insieme il venditore magari vediamo se già riusciamo a comprare qualcosa non credo perché abbiamo solo 37 soldi quindi 37 insomma fish questi qua del casino quindi non credo che ci sia qualcosa a quel prezzo almeno io ho un po' già guardato ma i prezzi sono parecchio parecchio alti comunque vabbè tanto in ogni caso dovremmo esplorare ancora tantissimo per cui sicuramente troveremo un bel po' di soldi in giro questa è tutta l'esplorazione che ho fatto finora quindi ce n'è davvero un bel po' voi nel frattempo mi raccomando lasciate un bel po' di like per sostenere la serie e tutto il canale condividete soprattutto continuate a commentare e darmi un sacco di consigli e suggerimenti sul da farsi come detto per il momento magari io aspetterei il settimo giorno nella base in cui sono magari adesso che abbiamo la forgia possiamo fortificarla decisamente meglio voi magari anche datemi qualche consiglio su quello da fare all'interno della base per affrontare meglio il settimo giorno e che dire direi che da 7day2die possiamo salutarci noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay ciao belli